Un morto e 14 feriti e il bilancio provvisorio del grave incidente stradale di ieri nel quale sono rimasti coinvolti un pullman della Flixbus con a bordo 38 passeggeri finito in una scarpata e 5 auto. La tragedia è avvenuta alle 4 del mattino sull'autostrada A16 Napoli-Canosa in direzione Napoli all'altezza del comune di Valle Saccarda in provincia di Avellino, in particolare al chilometro 101. Il pullman era partito da Lecce ed era diretto a Roma. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di Avellino, due del distaccamento di Grotta Minarda e una di Bisaccia. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Avellino, Benevento e Ariano Erpino. Stando ad una prima ricostruzione, dopo una curva il pullman si è trovato di fronte a due autoferme a causa di un tamponamento. Il conducente del bus ha sterzato sulla sinistra dirigendosi verso il guardrail per evitare l'impatto, ma è finito nella scarpata che per fortuna non è particolarmente profonda. Tre auto che seguivano il pullman invece sono finite direttamente contro le auto ferme al centro della carreggiata e uno degli automobilisti coinvolti nello schianto è purtroppo morto. La vittima è un extra comunitario. Per ciò che concerne il quadro dei feriti le prossime ore saranno cruciali, si attendono infatti i bollettini dei passeggeri feriti in modo più serio.